Uè non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi oramai veramente manca pochissimo questa settimana è l'ultima che ci allaccerà oltre che al mese di ottobre anche all'arrivo dell'evento che tutti stiamo aspettando sebbene non esista una data ufficiale tuttora presente nei file di gioco è molto molto probabile che qualcosa possa succedere il prossimo sabato quello che sta per arrivare oltre all'evento arriveranno anche le sfide a tempo straordinario perché sappiamo che la season ufficialmente terminerà il 6 ottobre e probabilmente quei 5 giorni che accompagneranno dal 6 all'11 ottobre saranno quelli delle sfide a tempo straordinario potrebbero però anche essere anticipate a questo martedì ma non credo sia ufficiale la cosa da prendere in quanto Epic Games tende ad allungarsi un pochettino di più per riuscire a fare la stagione numero 11 con Halloween e la stagione numero 12 con l'evento del Natale nel video di oggi ragazzi però parleremo anche della nuova versione dello scienziato bianco una variante che sarà possibile ottenere in un modo abbastanza particolare ma non ovviamente complicato nel nostro game parleremo anche della collaborazione che dovrebbe iniziare proprio il 4 ottobre Fortnite X Joker appunto in concomitanza con l'uscita del nuovo film appunto Joker e un po' di spazio anche per le ultime sfide in arrivo che ci completeranno finalmente tutto il set di challenge di questa season numero 10 prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che utilizzano ogni giorno il mio codice creator Xuderone grazie di cuore ragazzi per supportarmi quando scioppazzate di prepotenza nello shop mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale YouTube e al Twitch e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima ve la faccio la domandina ve la faccio ragazzi non è neanche così tanto difficile ma è una domandina che è giusto fare in questo momento proprio in questi ultimi giorni a cavallo tra le due season ma te da che season giochi dai quant'è che hai giocato a Fortnite raga 11 stagioni sono tante mamma mia ragazzi ditemi un po' da quanto giocate a fort io ho iniziato nella prima nella prima season ci sono già delle live mie su YouTube del 2017 quando ancora veramente c'era ben poco quindi scrivetemi qua sotto nei commenti da quale season giochi ma quindi ciancio alle bande e bando alle cianci andiamo subito subito a vedere ragazzi il primo argomento che parla proprio dell'evento delle news dell'evento recuperate nei file di gioco sappiamo innanzitutto che l'evento si chiama Night Night ufficialmente nei codici anche se in realtà pubblicamente nella LTM dedicata che arriverà appunto i giorni dell'evento si chiamerà The Hand quindi la fine è già lì il nome è tutto un dire in giro per la rete ma anche nei miei video precedenti sono presenti i primi file audio dove si sente proprio un countdown è una sirena per il lancio del rocket ovviamente assoluto protagonista di questo evento che potrebbe probabilmente interagire con i rift che sono presenti nel cielo della mappa e magari creare un qualcosa che modificherà totalmente sì ragazzi perché è molto probabile che nella prossima stagione non si vedrà la mappa come la conosciamo realisticamente parlando a quanto io ho idea la mappa sarà molto simile ma le location saranno tutte diverse anche perché abbiamo visto ci sono 12 nuovi location già scoperte nei file di gioco sappiamo anche però che durante l'evento ci saranno due minuti di totale invulnerabilità e probabilmente alcuni dicono anche di invisibilità agli altri giocatori nonostante sappiamo che c'è una no killing zone quindi nelle partite dove accadrà quello che accadrà non sarà possibile appunto killare avversari e quindi essere killato essere killati qui infatti arrivano proprio le notizie relative al fatto che non si potrà ovviamente in nessun modo perdere, uscire dalla partita e quindi è quasi certo che tutti riusciremo a goderci quello che succederà e andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento abbiamo delle informazioni sulla versione bianca dello scienziato lo scienziato quello grosso fa parte della skin del set dei sette il primo è il visitatore il secondo è lo scienziato gli altri cinque ovviamente non li conosciamo sappiamo però che in game molto presto verranno inserite secondo me ragazzi dopo l'evento non so perché ho in mente questa cosa verranno inserite delle musicassette avranno un colore giallo e saranno piccoline dovremo cercarle in giro per la mappa sappiamo già la prima che è in una casa ma ve la farò vedere quando sarà giusto il tempo per mostrarvi la sfida e abbiamo proprio in anteprima lo stile dello scienziato bianco che a parer mio è molto più figo dello scienziato nero questa è l'outfit principale e modifica anche sulla colorazione del backpack che diventa appunto bianco con il mantello arancione tanta tanta roba per questo scienziato che quasi certamente sarà ottenibile gratuitamente e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi questa è una schermata incredibile apparsa per meno di 5 secondi a un sacco di persone nella notte di ieri proprio nel cambio delle news alle 2 del mattino o qualcosa del genere come vedete è un chiarissimo riferimento ad Halloween Frighting Creators With che dice le cose things are getting here around here and you want to see that you've got nel senso parla della possibilità di mostrare io credo che si riferisca alla modalità creativa le creazioni più horror delle modalità creative che probabilmente verranno rese pubbliche per un periodo di tempo limitato tra l'altro di fianco arriva proprio la notizia della Spooky Proof Gallery che non è altro che il set di cose spooky quindi a tema di Halloween che verranno implementate di certo per la modalità creativa e che vi daranno spazio di sfogare la vostra fantasia ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento ed eccolo eccolo qua ragazzi Joker questa è una skin e un'immagine che è stata scoperta da pochissimo nell'ambito dei leakers potrebbe essere un concept io sono molto propenso a pensare che sia un concept ma se veramente così fosse beh devo dire che è un super super concept che Epic Games farebbe bene a tenere in considerazione sappiamo ragazzi che il 4 ottobre arriverà nelle sale cinematografiche Joker il film e già avevamo scoperto che Epic Games avrebbe fatto una nuova collaborazione forte anche del fatto che con la collaborazione Fortnite X Batman non è arrivata la skin di Joker mi fai la skin di Catwoman che mi fa ridere il cat mi fai Batman in due versioni non mi metti Joker un pochettino la community ci è rimasta male me compreso in realtà è tutta una strategia di marketing perché nel pacchetto di Joker che arriverà sembra ci siano due skin incluso due skin relative alla collaborazione una maschile e sarà ovviamente Joker ma anche una femminile e potrebbe tranquillamente essere Crazy Harley Quinn insomma ragazzi ogni giorno si scopre sempre qualcosa di nuovo più si va avanti più l'hype per la season 11 quella che stravolgerà tutto si alza io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale noi ci vediamo alle 8 in live su Twitch ciao 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 ciao